L'applicazione di messaggistica WhatsApp utilizzata per stabilire prezzi e modalità di consegna, mentre nella cassetta della posta venivano conservate le dosi da cedere ai clienti che non sceglievano la consegna a domicilio. Agiva così un pusher di 23 anni nel quartiere catanese, Picanello. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania a Piazza Dante, durante uno dei controlli volti a contrastare proprio l'attività di spaccio di droga, hanno attenzionato i movimenti di un giovane in sella a uno scooter che ha fermato la sua corsa davanti a un palazzo. Lì ad attenderlo c'era il 23enne che dopo aver prelevato la droga dalla cassetta della posta la consegnava al centauro. Il pusher è poi salito a bordo della sua auto per svolgere, inconsapevolmente seguito dai militari, le consegne a domicilio e proprio nel momento in cui, giunto nel luogo dell'appuntamento, stava cedendo della droga a un cliente, è stato bloccato dai carabinieri, l'acquirente invece è riuscito a far perdere le proprie tracce. Il 23enne è quindi stato perquisito nella tasca dei pantaloni. Sono stati trovati cinque bus in cielo fan contenenti ciascuna 6,5 grammi di marijuana, un involucro con 3,15 grammi di cocaina e 170 euro ritenuti provento dell'attività di spaccio. I carabinieri hanno poi controllato la cassetta della posta, al cui interno hanno trovato altri 9 grammi di marijuana già suddivise in dosi e l'abitazione del giovane, dove sono stati rinvenuti due bilancini di precisione funzionanti e altro materiale per il confezionamento dello stupefacente, ispezionato dai militari, anche il telefonino del 23enne, che hanno così potuto riscontrare vari messaggi whatsapp con i quali il pusher stabiliva prezzo e modalità di consegno della droga con gli acquirenti. Il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, arresto convalidato dall'autorità giudiziaria, che neanche disposto alla sottoposizione all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.